Se vuoi scoprire il mondo delle nebulose, beh, ti consiglio di seguire questo video. Ciao, io sono Luca e sono un youtuber e racconto un'astronomia semplice e veloce, quindi se vuoi sapere di più di questo stupendissimo mondo, beh, ti consiglio di iscriverti al canale. Ma adesso iniziamo col video vero e proprio, inizierei proprio con spiegarvi che cosa sono le nebulose. Beh, le nebulose sono una regione di spazio dove contengono appunto gas e polveri interstellari che reagendo con le stelle vicine riescono a creare i colori che noi vediamo. Una seconda domanda che mi ero posto, io credo che tutti si pongano, ma quanto sono grandi queste nebulose? Beh, variano molto, possono andare da un centinaio di anni luce fino a qualche migliaio di anni luce. Poi una domanda che mi sono posto è, ma sono pesanti queste nebulose? Beh, in realtà no, infatti se la nebulosa fosse grande quanto la Terra peserebbe solo qualche chilo. Un'altra cosa è comunque le nebulose, essendo gas e polveri, un po' come saturno ai giovani, sono molto poco dense. Però le nebulose si dividono in due grandi gruppi, quelle diffuse e quelle planetarie. Quelle diffuse a sua volta si dividono in tre gruppi più piccoli. a emissione, cioè quando il calore delle stelle vicine fa, diciamo, eccitare gli elettroni e quindi grazie a questa eccitazione degli elettroni noi riusciamo a vedere il colore. Quella riflessione è quando la luce delle stelle vicine, grazie ai gas, riescono a riflettere appunto la luce delle stelle e quindi noi vediamo luce grazie alla riflessione dei gas. Terzo e ultimo gruppo sono quelle oscure, cioè che le nebulose c'è tanta densità, quindi sono tanto dense, che la luce non riesce né a emettere né a rifraggere. Infatti queste qui sono molto difficili da osservare. E poi ci sono le nebulose planetarie, perché ricorda un po' un pianeta, la sua circolarità di un pianeta. Ma dove si formano queste nebulose? Beh, quando una stella sta per esplodere una supernova, quindi una piccola stella un po' come il sole, a un certo punto inizia a lasciare gas e polveri interstellari, creando così una nebulosa planetaria. Ebbene sì, il video è finito, ma noi ci vedremo con un nuovissimo video la prossima settimana e quindi ciao!